E' in pessimo stato l'ex tabacchificio a Battipaglia in Vielosaiemma. Nelle ultime ore è crollata parte del tetto, ma nonostante l'episodio sia stato segnalato alle istituzioni, anche tramite i social, sinora non è stato adottato alcun provvedimento per mettere in sicurezza la struttura, che potrebbe avere ulteriori cedimenti a ridosso degli uffici di Alba. Purtroppo si tratta di una struttura che per anni ha dato lustro a Battipaglia, rappresentando anche un'importante fonte di occupazione, con l'impiego di tante tabacchine, poi con la dismissione dello stabilimento Ati, la struttura è stata completamente abbandonata, ed anche in pessime condizioni igieniche, essendo ricettacolo di datti e mondizia. Ovviamente bisognerebbe effettuare subito gli interventi per mettere in sicurezza l'edificio, abbandonato, sperando che non si verifichino altri crolli, che potrebbero riguardare ulteriori parti della struttura, e non solo il tetto, come sta accadendo in questi giorni. Intanto sui social ribanzano i commenti sulle pessime condizioni della struttura, invocando addirittura le dimissioni della sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese.